Oggi abbiamo firmato le concessioni finanzianti per 11 comuni per interventi di riqualificazione dei borghi, cioè di ciò che è di valore identitario, turistico e storico dei nostri comuni. I comuni sono Arielli, Cappadocia, Caramanico Terme, Montebello sul Sangro, Santemarie, Scanno, Tagliacozzo, Scurcola, Marsicana, Silvi, Rosello e Tollo. La prossima settimana ci saranno altri 34 comuni e di qui al mese di aprile finiremo tutte le concessioni riguardanti tutti i comuni finanziati per circa 15 milioni di euro. Abbiamo ascoltato i sindaci a valenza storica, culturale, identitaria e turistica, abbiamo messo queste risorse, abbiamo negoziato con loro le procedure, i progetti e adesso partiranno anche gli appalti. Tenete da conto che questo produce valore di collocazione turistica all'Abruzzo, ma anche respiro alle piccole imprese che fanno restauri, recuperi, alle piccole imprese dell'edilizia, perché in Abruzzo partono i grandi appalti da centinaia di milioni di euro, ma partono anche gli appalti da centinaia di migliaia di euro, è questo che consente all'edilizia di ripartire. Abbiamo presentato una memoria di tre pagine per chiedere il riesame. L'Abruzzo è al primo posto per quanto riguarda i siti che non fanno parte della proprietà di Enea, perché chi si è collocato al primo posto ad oggi Frascati è di proprietà di Enea, al secondo posto la Puglia è di proprietà di Enea, noi siamo la prima posizione conseguita che non è di proprietà di Enea. Per quanto ci riguarda davvero è una collocazione invidiabile da tutta l'Europa, battaglieremo per far valere gli elementi del bando che ci vedono a favore.